Nel corso degli anni, attraverso le meditazioni, attraverso tutti i passaggi che ho fatto per arrivare alla consapevolezza, che ho fatto per portare le persone alla consapevolezza e per incontrare il Divino, ho composto delle canzoni. Due ragazze con una voce stupenda si sono chiuse nel Mauna, esattamente nel tempio del Mauna dove c'è la statua di La Culiscia, per due giorni a incidere un cd meraviglioso. È uscito un cd bellissimo che si intitola Onda Divina ed è disponibile per 5 euro, ecco, presso produzioni chiocciolaricercheevolutive.com e contiene una serie di brani di ispirazione. Sono come dei mantra, sono delle preghiere, ecco, che invocano, chiamano e raccolgono l'individuo nella sua anima, nel suo centro spirituale. Vi canto una di queste canzoni che è appunto Onda Divina. Onda Divina che scorri in me, sento l'amore che c'è dentro te, sento la vita, sento la gioia, sento che tutto si unisce in me. Onda Divina che scorri in me, sento la forza che c'è dentro te, sciogli il mio ego, rompi il mio freno, sento che tutto si unisce in me. Le canzoni ispirate al Divino ti portano in uno stato meditativo e la caratteristica di queste musiche, come i mantra, è che puoi ascoltarle per ore e anche se la strofa si ripete e continua a ripetersi, non ti stufa, non ti annoia, anzi ti permette di penetrare sempre di più nella tua natura spirituale. Goro, 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 luce del mio cuor. Goro, 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 luce del mio cuor. Goro, 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 luce del mio cuor. Goro, 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 luce del mio cuor. Sono dei mantra, ecco, e sono preghiere. Allo stesso modo ho scritto un libro, un libro che percorre la stessa vena devozionale e questo libro si chiama Leggero come il silenzio. Un libro di poesie, un libro che ti parla di te, un libro che parla del tuo cuore, un libro che chiama la verità nel tuo cuore o, per meglio dire, ecco, apre il tuo cuore alla verità che già esiste nel tuo essere e in tutte le cose. Sono diverse poesie con illustrazioni anche grazie a delle foto meravigliose. Le foto sono di Daniele Curti, che è un fotografo bravissimo, guardate che meraviglia. Vi leggo una poesia, la prima, che è proprio quella dalla quale il libro prende il titolo, che è Leggero come il silenzio. Leggero come il silenzio, il tuo sguardo su di me. Leggero come il silenzio, quello che stai per dirmi. Leggero come il silenzio, ciò che sussurri alle mie orecchie. Sono te, sono te, sono te. E io che ti aspettavo, io che ti cercavo, sapevo che saresti venuto, ma non così, non così. Leggero come il silenzio. Allora, il libro è disponibile in tutte le librerie, lo potete trovare, se non c'è lo potete ordinare, le produzioni sono produzioni ricerche evolutive. Il libro costa 16,90 euro, nel libro c'è anche il cd. Quindi, se volete comprare il libro, avete il cd in omaggio, ok? Se volete invece comprare soltanto il cd, onda divina, basta che scrivete a produzioni chiocciolaricerchevolutive.com e l'ordinate, costa solo 5 euro. Bene, ci vediamo la prossima volta. Ciao. 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 Grazie a tutti